Ciao a tutti, sono Marco Catanzano, sono un libero professionista e sono in realtà più precisamente un medico dentista e esercito la libera professione a Napoli. Allora, io penso che Personal Branding Vincente sia stato uno dei migliori infoprodotti che abbia mai acquistato nella mia vita. Io premetto che sono un grosso consumatore di infoprodotti e penso che i contenuti che ho trovato in Personal Branding Vincente siano dei contenuti veramente unici e ho trovato Michele una persona estremamente competente e versatile nella generazione di contenuti.